buonasera benvenuti alla presentazione del grande azzurro di ayesha runata pubblicato da marcos i marcos per la traduzione di francesca conte e con me questa sera c'è l'autrice del libro la ganese ayesha runata che saluto e poi sarà cominetti che la nostra bravissima interprete per iniziare vi dico qualcosa su sul grande azzurro grande azzurro ambientato alla fine dell'ottocento nella costa d'oro che era il nome del gana prima del che raggiungesse la ottenesse l'indipendenza dall'impero britannico nel 1957 è la storia di eh due eh gemelle eh Hassana e Huseina che a dieci anni eh vengono separate sia dalla famiglia dalla madre e dalla sorella maggiore e sia tra di loro ehm perché la loro casa che si trova nella foresta interna del gana quindi nella parte nord del del gana viene eh la loro casa viene distrutta e un gruppo di schiavi alcuni schiavisti le ehm le portano le separano e per poi eh portarle sulla costa ed eventualmente appunto venderle eccetera. Cosa succede? Che a questo punto queste due bambine eh che finora hanno vissuto in maniera eh simbiotica vengono divise ciascuna da questa divisione ehm ciascuna inizia a vivere la propria vita, la propria vita di eh persona indipendente e libera. Questa storia come moltissime storie e nella letteratura ehm e come come sono le storie di quasi tutti gli esseri umani è una storia che ehm della ricerca della libertà personale. Cosa succede? Queste due bambine ehm appunto hanno due ehm destini molto differenti. Hassana che è la gemella più estroversa, quella che parla con tutti, quella che cerca sempre di metterci mettersi al centro della ehm dell'attenzione ehm viene appunto data in mano alcuni schiavisti poi attraverso l'aiuto di alcuni bianchi, di alcuni missionari eh riesce a ottenere la libertà. Raggiunge Accra eh la capitale della costa d'oro e a questo punto eh grazie al lavoro ehm in una sartoria la quale appunto tiene la contabilità riesce a emanciparsi, riesce a studiare e quindi a trovare la propria personale libertà. Cosa succede invece a Husseina che è la gemella quella un po' più timida, introversa? Ehm raggiunge Lagos quindi sono comunque separate le due le due sorelle quindi in Nigeria. Qui ehm però anche lei riesce a eh liberarsi ehm da da un destino di schiavitù grazie a un gruppo di donne che che va a comporre quella che è una congrega femminile religiosa. ehm a un certo punto poi Husseina attraverserà l'oceano e arriverà fino in Brasile. Quindi ci sarà un momento eh piuttosto lungo nel corso della della narrazione in cui Hassan e Husseina sono separate da eh un intero oceano dall'oceano atlantico. Nonostante questo per parecchi anni le due sorelle riusciranno a restare in contatto attraverso i sogni e attraverso sogni molto particolare. Sogni che avvengono quando le loro vite sono particolarmente ehm tristi e problematiche e non quindi nei momenti di felicità e dei sogni che hanno a come elemento principale l'acqua. Ecco ho detto qualcosa senza spoilerare nulla anche perché ci sono molti eh ci sono alcuni colpi di scena anche quindi che poi ehm una delle cose più eh più interessanti perché comunque alla fine si scoprono delle cose. Detto questo farei la prima domanda a a ayesha. Ehm perché il grande azzurro eh si ehm presenta come sequel anche se i due romanzi possono essere letti separatamente perché comunque sono seguono traiettorie ehm divergenti. Del suo romanzo precedente adesso ehm di grande azzurro è il quarto romanzo di ayesha quindi ecco esatto esattamente questo romanzo qua. I cento pozzi di Salaga eh che è il romanzo precedente. La prima domanda la mia prima domanda eh verterà proprio su questo perché vorrei chiedere ad ayesha ehm perché so che eh sappiamo chi lo ha già letto che eh i cento pozzi di Salaga hanno un legame molto particolare eh con la sua famiglia con la famiglia dell'autrice quindi di ayesha e quindi per introdurre quella questo grande romanzo che alla fine è un unico romanzo eh possiamo dire chiamalo familiare e al femminile. Qui ci racconta la genesi della della storia generale. Thank you so much. Okay. Thank you for that lovely introduction. It was so in-depth and I felt transported. Um so the the universe of 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 these two books was created um about a decade ago actually um when I sat my father down and had him draw a family tree and um as we were doing his maternal line we found out that there was somebody called the slave um he didn't know much about her just that she was beautiful that she had sort of reddish skin and that she had been taken away from her home and ended up in the town of Salaga. So I um was a baby writer then but I was intrigued and I knew I'd want to write about her story. So I started doing research calculating when she could have been born and the timing fell right in the middle of an interesting period in Salaga's history. So I did all this research about Salaga about the events taking place in there and then I began to also tell her story. So once I began crafting her story she had siblings she had a mother she had a father she had all this family and so this world was created in in my mind and um from that world there were these girls Hasana and Husayna who um I just loved so much as as um I was exploring um my ancestor's story and so at some point she gets separated from them one after the other and then the hundred walls of Salaga follows her story but I couldn't stop thinking about them even after this book was done and I I just when the 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 chance came to tell their story um I met um Sarah Odadina of Pushkin Press um in Ghana in 2018 and she'd asked me if I'd written for young adults and I said you know I have the characters so if you will listen to their story and let me pitch you what that could be um I guess I have considered writing for young adults um so that's that's how it began and I wrote their story so fast it was like they wanted me to tell their story and um they have become like family too even though they 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 came from my head and and my imagination of what my ancestor could have gone through they do feel like real people who existed for me so in 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 some um just from this one real character I've been able to you know engender new family and um I think there's even more that can come from from the hundred walls of Salaga so yeah Allora innanzitutto Laura grazie mille per questa bellissima introduzione perché veramente con le tue parole mi hai già trasportata in tutto questo mondo di cui appunto andiamo a parlare ehm allora effettivamente eh tutto nasce con il libro precedente dove io più o meno una decina di anni fa comincio a creare questo eh questo mondo che come giustamente dici tu non è interamente come dire ehm immaginario perché stavo guardando il l'albero genealogico della mia famiglia in particolare quello di mio padre a un certo punto guardando il ramo materno da cui appunto discende discendeva mio padre si trova appunto questo personaggio questa donna la schiava la schiava di cui insomma ho cercato di sapere di più non si sapeva nulla non si sapeva ehm si sapeva soltanto che fosse che era una bellissima donna che aveva una pelle eh leggermente rossastra e che appunto eh era eh ubicata nella città di Salaga io all'epoca ero come dire una eh baby writer cioè ero proprio agli inizi come scrittrice e eh mi sono detta ma io devo saperne assolutamente di più di questa di di questa mia antenata e quindi mi sono eh buttata capofitto nella ricerca ho cominciato a cercare di capire di più quando era nata come come in che condizioni appunto ehm si trovava eh quando quando era nata e ho scoperto appunto che eh anche eh nel contesto in cui si trovava c'erano una serie di eventi interessanti che avrei potuto utilizzare per la mia storia proprio a Salaga e quindi studiando appunto tutta questa serie di ehm eventi ho eh scoperto di più da una parte eh riguardo alla situazione esterna dall'altra riguardo alla mia famiglia e eh quindi ho cominciato a voler raccontare la sua storia la storia di una donna quindi che ha eh una sua famiglia a sua volta eh che poi fa parte della mia famiglia e creando quindi una serie di come dire un mondo che prendeva forma nella mia mente e eh in questo a fare parte di questo mondo ovviamente c'erano anche queste due eh gemelle di cui parlavi che poi più tardi sono diventate protagoniste nel secondo libro lei ha appunto questa mamma ha eh una una sorella eh c'è una sorella più grande di cui dicevi anche tu e ci sono queste due gemelle due gemelle che appunto nel libro precedente non avevano un ruolo eh non erano le protagoniste ma mi sono assolutamente rimaste nel cuore io eh ho cominciato come dire a esplorare tutti i miei antenati e loro veramente mi hanno lasciato qualcosa mi hanno lasciato un segno particolare da un certo punto ehm la protagonista del libro precedente viene separata dalla sua famiglia quindi viene separata anche dalle sue sorelle e ehm però eh la la storia di queste due gemelle insomma mi è rimasta in testa anche quando poi ho finito di scrivere il libro precedente era come se nella mia mente continuassero a a essere presenti dovevo saperne di più dovevo raccontare di più di queste due eh sorelle che in questo caso erano due sorelle immaginarie però facevano parte sempre di questa mh famiglia eh che in qualche modo appunto è legata alla mia famiglia quindi ne ho parlato con Sara Odedina della eh Prishkin Press nel duemiladiciotto più o meno e e le ho detto lei si occupava di libri per ragazzi eh young adults come si suol dire in inglese e insomma ci siamo messi a parlare lei mi ha detto ma avresti magari un'idea per un libro rivolto a questo tipo di pubblico e io l'ho detto ma sì effettivamente io una storia in testa ce l'avrei potrebbe essere anche interessante allora ho cercato di presentagliela di raccontagliela nel modo giusto sperando che le piacesse per poter poi scrivere il libro ed è così che nasce appunto eh l'idea appunto del grande azzurro devo dire che è stato scritto in maniera assolutamente rapidissima perché era come se io avessi già in testa tutto questo tutto questo mondo ed era come se loro stesse le due protagoniste volessero che io raccontassi la loro storia e quindi per me è stato un po' come raccontare la storia di nuovo della mia famiglia anche se in realtà non facevano parte propriamente del mio albero genealogico non erano delle mie antenate vere e proprie però per me sono diventate assolutamente molto reali avendo trascorso con loro così tanto tempo e quindi da una parte c'era questo personaggio questa mia antenata reale veramente esistita e dall'altra invece come se mi fosse creata una nuova famiglia due nuovi membri della mia famiglia e devo dire che comunque da questi cento pozzi potrebbero ancora venire fuori altri membri della mia famiglia prima o poi ecco infatti solo due due note su queste cose che appena detto ayesha è interessante vedere come questo libro che è stato classificato come young adult con ce l'ha appena detto in realtà in italia non sia stato classificato in questo modo è curioso vedere come le diverse sensibilità anche di diversi paesi in realtà questo potrebbe benissimo esserlo perché lo è stato ma in realtà è una storia assolutamente universale che riguarda comunque qualsiasi età ci sono solamente due ragazzine come come protagoniste la seconda cosa è che io spero che ci sarà anche un terzo siccome si dice che il numero perfetto il 3 io mi auguro che ci sia un seguito di questo romanzo anche perché ci sono alcune storie in sospeso e vedremo se arriveranno in futuro ok detto questo vorrei chiedere una cosa da ayesha il grande azzurro il grande azzurro fin dal titolo fa riferimento esplicito all'acqua il grande azzurro chiaramente chiaramente non so potrebbe essere probabilmente è questo grande oceano che separa le due le due bambine due ragazzine e quindi l'acqua come elemento dicevo prima che le divide e le unisce volevo chiedere all'autrice che cosa è l'acqua per dentro il suo romanzo che che l'acqua è un simbolo ancestrale potentissimo che cos'è l'acqua all'interno di questo romanzo e che cos'è l'acqua per lei per averle dato un intero il titolo di un intero romanzo chiaramente That's a wonderful question. I guess we're mostly made up of water, human beings, you know? So whether we are aware of this on a daily basis or not, like we are water. Water is life. It sustains us. It's a thing that makes our plants grow. So it is as important to us as air is, you know? So that said, as a West African, historically, water has been this life-giving force because that's the source of a lot of our fishing industries. A lot of West Africa is split by, you know, the Niger River. You have the Senegal River. In Ghana, you have the Volta. And you have all these rivers, the Nunes. There are all these rivers that flow from one side of West Africa to another. And, you know, that's how our cities have sort of sprung up along these waterways. So water is this, yeah, this life-giving force because that's where our communities have settled and then turned into towns and then grown into cities, like cities like Bamako and then, you know, Onicha on the other side. So just historically, for me, it's so interesting. And then if you talk about the migration of Africans from the West, from the East, sorry, to the West, there again, you have the Nile River being another, the longest river on the continent. So to me, we can't talk about our history without talking about water. So this is like in the bigger, broader story. And then when you come closer to the 1700s, 1800s, water becomes almost antagonist because it takes away from us. That's where we lose a lot of our siblings to the big water, the big bad water that takes our siblings away. So for the girls, that's what water is when the book starts, is this ominous power that has been beckoning them since the beginning of even the other book, The Hundred Walls of Salaga. And then in this one, it's the thing that has separated the two girls. And yet when they dream, it's water that is the makeup of their dreams. Their dreams are fluid almost. So it's that thing that, like you said in your question, that connects them. So it can't quite be antagonist. It's a thing that separates, but it's a thing that brings together. So I thought it'd be really poetic and beautiful to just explore something that plays a dual role for the girls. And for me, I live by the ocean now as well. So it's a calming presence. But then the days, I don't live on the ocean, luckily, but some friends tell me the days when the waves are so harsh, it's like it slaps the building and you can't sleep. So water has, yeah, these two purposes, like in Accra, the days when there's no water coming through the taps. And yet the other days where it rains so much that it floods and takes people's homes away. So it's this thing we need, but we have to sort of manage. And I thought it was really interesting to explore in literature. And it's just so beautiful. So that's where I was hoping to go with it. This is a beautiful question, I want to say. Well, first of all, we all, as human beings, are made in good part of water, at the end. If we think about water, the water is the reason for which we are here, which we can live. The water is what gives us support, which allows us to live. The water, for us, is like the air, is indispensable for our survival. And then, of course, there is another dimension, which is what regards Africa occidentale. Well, historically, the water has a role of, like to say, is the source of life. The water is absolutely a force that can really create life. This is because there is a lot of activities of pesca, but also because there are great rivers in Senegal, rather than in Nigeria, there are these great rivers that atravies Africa in their their various orientations. And what happens? That along the rivers in Africa, there are there that are born the first communities, and then they are expanded to become the real and real cities. And so, there is this force that anima, just, that comes to life, that comes to the water. We don't know, in various parts of Africa, this is true, but for example, regarding the zone that I know, I don't know, if there is a small community and then you arrive with a large city like Bamako, for example. So, historically, the water has always had a role very important role in the everyday life of the population of Africa occidentale. And then, we also think about what happened in terms of the migration of the east to the west, especially in reference to the Nilo, which, in the end, who knows the Nilo, this is one of the mountains most long, in the world, is so beautiful. And so, it is a very important part of life, also, in this case, in life. So, I would say that the story of Africa is the story of the water in Africa. This is certainly a great importance of the story of the water from the point of view of the historical history. And then, at a certain point, 1700-1800, the water becomes, however, almost antagonistic. What do I mean? I mean, that the water can be very beneficial, but also have an impact very devastating, the water can be very devastating, and, effectively, if we look at what happens in this book, as you just said, Laura, at the beginning, there is this water that represents almost an element of separation, and, therefore, an element that is contrary to what they would, what they would, what they would expect, what they would expect, the two protagonists, it is, as you just said, the water, and, as you said, when they dreamt, when they dreamt, when they dreamt, when they dreamt, they can be part of these dreams, they make their dreams almost fluid, and it is, as you said, the great protagonist. So, as you said, as you said, Laura, from one part, there is this role of separatrice, of obstacle, but from the other, there is this element of connection, this legame that is created through the water. I found that this, how to say, this rapport to two faces, was very interesting to study and then to insert in the book, from the point of view of the the beauty that this double face of the water evoca, also, in particular, with reference to the life of the two protagonists. I, in particular, for what I'm talking about personally, I live close to the ocean and I say that I find the effect of the ocean of the ocean very calm, very secure, even if there are my friends who live on the beach, in front of the sea, and they tell me that when there is a tempest, when there are the waves that are well arrabbiate, you feel that they just hit against the house and they don't even know how to sleep, so it is so strong. So, I have to say that, in one part, there is the excess of water when there is too much, when there is too much, when there is too much of the other, the consequences of the absence of the water. So, really, the fact that the water is absolutely fundamental, well, this is obvious, and for this role is so important, but it is also necessary that we learn to manage these resources of the water. And I thought that, that would be very interesting to explore, in my book, this dimension of the water, and then there is a dimension, obviously, of beauty that regarding the water, which was perfect for writing this book. So, for Connecting to a part of the response of Ayesha, is clear that these stories are also stories, in the sense that there is an attentive and precise reconstruction, storical, sociological, of what was the society of Africa in the end of the 1800s, in a phase that is, just a few years ago. So, what I wanted to ask you to ask Ayesha is this, why did you think it is important to raccontare, ambientare i suoi romans in that particular phase storica del suo paese, and what is the rilevanza di raccontare un tempo che sembra così remoto, oggi? So, you know, when I started writing, it was the protagonist of my book who led me to the time in which the book was set. So, that was not my own intention, it was the character that determined that this book be set then. That said, I had always been personally interested in the history of my people, like in all senses of the word history, before contacts with Europeans, during that period of, you know, being siphoned out, then the colonial period, the independence period. I've been fascinated by it all. And I think as a student, I didn't learn any of this in school. This is something that people don't talk about. So, there's a lot of myopic looking back at the past, and it's usually just when Europe comes into the picture, which is unfortunate, because that's like 400 years of a tiny bit of, you know, thousands, a millennia of history. So, to me, I just, I want to explore it all. And these books just happen to be set in the period just before colonialism, because of the characters. I will probably write a book one of these days that's set 2,000 years in the past. I want to do it all. I think also that setting the book in this time is to show continuity, that things haven't quite changed. You say that it seems so far removed. But as I was doing my research, what struck me was how similar things are. The technology has changed. Maybe names of places have changed, the external, what people wear, those things have changed. But people are still doing the same things. Names just sort of shift. So, what was then called, you know, human slavery is now being called human trafficking, but it's still ongoing. So, things haven't really changed. And even as I go way back in time to the 2000s, this is 2000 before Christ, or as they say now, before the common era. Even as I go then, I've seen love stories that show me, like, people have always had desires. And people have always been, you know, family driven. And then there are people who just destroy and want to break things and are selfish. So, to me, it's still, people are still doing the same things. It's just that the structures have changed and we've given things new names, but we're still doing the same things. So, I hope that answers the question. Well, I think that when I started writing, as I said before, it was the protagonist of whom I wanted to talk about, which has determined the period of the story of which I have talked about in my books. So, I'm not having a particular choice. It's been the protagonist that has made me choose for her. Detto this, however, I've said that I'm always been interested in the story in general of my people. What do I mean? I mean, I don't want to say the story from the point of view of the family, but also the story of where I came from. And this, yes, I mean, the contact that there was with the European European, the colonialism, I mean, the independence, but I mean, I mean, I mean, I mean, I've never learned from school. Because they're not taught, at least, they're not taught, they're not taught in school. They tend to, as to say, to not want to see, to not want to remember, to not want to remember. And this, ahimè, is very sad. Because this miopia regarding the past, it deprives, the knowledge of what happened in the past. And, in the end, if we think about it, 400 years ago, it's a lot of, but in reality it's a little bit of a story of a millenarian, and, in the end, it's a lot more and more and more. So, I mean, I mean, I'm dedicated and I continue to dedicate myself, because I like to think about the story, to understand what happened in the past, so that it's in the phase of colonialism, but, obviously, this, as I said before, it's been a choice from my character, but, in reality, maybe I'll write another book and I'll talk about what happened 2000 years ago, and that it's only a few hundred years ago. It's something that I really want to explore. I'm determined to do this research in the past and in the story. And then, another element very important, it's just about the connection between the past and the present. It's the fact that, according to me, there's a great continuity that characterizes the past and the present. The things, in reality, if we look at attention, are not changed so much, because, maybe, are changed the circumstances in which we live, maybe, are changed the technology conditions, there are some big steps of course, certainly, are changed the names of the places, are changed, how to say, we are changed all the outside, the exterior of the way we live, maybe, this, yes. But, in the end, tante things are remained absolutely identical. One time we talked about schiavitude, now we're talking about schiavitude, now we're talking about schiavitude, people who are always living this situation, which is called in a different way, but, in the end, things have changed quite little. And so, in the moment in which I decide to write a book that is, that is, 2000 years before you, well, anyway, there will be some similarities with what happens today. What I want to say? That the desires of the people, which we aspirate, are always more or less the same thing. The love for the family, the push towards our family, this is always been, this has always been, this has always been characterized, this is the same thing for what regards, the desire to destroy, maybe, the egoism of people, this is, these are all characteristics that we bring back forever, and so, I would like to say that the present is not so distant, so different from the past, and, at the end, the structure changes, changes the names, but, in the end, and, just to add, just what I mentioned names, it's so interesting when you study the past, you see something like, the trading companies that came into West Africa, so for a while they're called trading companies, and then they change into government institutions, so then you have the British government taking over, and then it becomes a colonial thing, and then during independence, even though now you have Africans running the show, behind the scenes, it's still the same systems that were put in place, way back when, and then you come into the 70s, the systems aren't working, and so people are struggling, we still have the systems in place, like in Ghana, people in the courts are still wearing white wigs, so that should tell you something, so this, to me study in the past, just shows how things are still the same, and maybe just get covered with other layers, but they haven't really changed, and then so today in Ghana, for instance, you have laws that have been around since the colonial projects, I shouldn't even call it the project, the colonial era, and so you see how things have not changed at all, to me that's what study in the past also shows me. E poi se posso aggiungere un'altra cosa, perché appunto vi accennavo questa cosa dei nomi che citavo più e più volte, che cosa voglio dire? Beh, che in passato, se guardiamo quello che è successo ad esempio appunto in Africa, si vede che c'erano le famose trading companies, queste società commerciali, che poi con il colonialismo lentamente sono evolute in cosa? Ad esempio nel caso dell'impero britannico sono evolute in istituzioni governative, quindi erano istituzioni del governo britannico, c'è stata poi la fase appunto del colonialismo, fino ad arrivare poi alla parte della fase dell'indipendenza, dove sulla carta ovviamente sono gli africani che hanno ormai il controllo della situazione, ma in realtà il sistema non è cambiato affatto, e ad esempio negli anni 70 ci si è resi conto che questo sistema era un po' datato, in Ghana ad esempio non funzionava più, ma rendiamoci conto che nei tribunali ganesi gli avvocati si presentano con le parrucche bianche, qualcosa vorrà dire, quelle ce le hanno ancora, quindi effettivamente è molto interessante vedere quando si studia il passato, quando si guarda il passato, sembra che le cose siano cambiate molto, ma poi in realtà quello che accade è che magari quella che era la situazione iniziale viene coperta da una serie di strati, ma questa stratificazione non cambia la sostanza, la situazione è sempre quella, le leggi che sono in vigore ancora oggi appunto in Ghana sono quelle del progetto coloniale, anzi del periodo dell'era coloniale, e questo appunto è qualcosa che mi affascina molto, studiando il passato ti rendi conto che quello che c'era e che pensi che non ci sia più in realtà è sempre lì, ha solo cambiato nome. Grazie, grazie Esha, comunque è sempre utile ripeterlo, che le cose sembrano cambiare, ma non lo sono mai veramente, finché non cambiano alla sostanza. Detto questo vorrei aggiungere un dato circa la struttura di questo romanzo, del Grande Azzurro. Nel Grande Azzurro le voci di Hassan e Hussein si alternano, quindi sono ben differenziate, sono molto riconoscibili e si alternano appunto capitolo dopo capitolo. Solamente però una di queste due voci, che è quella di Hassan, parla in prima persona singolare, e Hassan abbiamo detto che è la sorella quella più estroversa, quella che poi studia, e volevo chiederle appunto come ha fatto a decidere a chi dare questa prima persona singolare, quindi da che, attraverso quali occhi leggere, vedere l'intera storia, e nello stesso tempo si ci può dire, senza ovviamente fare degli spoiler, perché queste due sorelle hanno un arco di trasformazione molto interessante, nel senso che partono, come vi ho detto prima, cioè una più estroversa, l'altra più introversa, e hanno poi un bellissimo arco di trasformazione. Ecco, se ce ne può un po' a parlare, senza magari rivelarci troppo della trama. Ok, ok. Ok, so this was just on a craft level, a trick that I learned to help the reader along, because I think, because they're twins, there is like, the chance that the reader will get confused and you can use that to create an effect if that's what you want. But in my case they were so different that I wanted them to be different from the get go when you encountered them. That said, Hasana is a literate person, or she becomes literate, and this is not a spoiler, we learned that she's learning how to read from the very first chapter. So in my imagination, she's the one who can write down their story. So she would be the narrator of the story and then Husayna, who is the more introverted of the two, would be the one who would have somebody speak on her behalf. That said, it leans nicely into your question, your second question. The two of them sort of evolve as time goes on, and you see Hasana leaning more into herself and then you see Husayna forced to be more outward. and I think that's a big evolution that happens to the two of them. But there's a fusion that has to occur as well at a certain point for them to really be able to find themselves. So for me, it's the people that meet along the way that help them evolve. It's the water, their relationship with water that also brings that along. There's a cleansing that happens to them. and I think, you know, they're teenagers and yourself at nine years old versus yourself at 18. There's so much that happens in that space. And that's what the girls go through as well. So I think it's credible that they would encounter so much in the space, in the short space of a book, of this one, of this book. All right. All right. Sicuramente si è trattato di uno strumento che io ho messo in campo per, come dire, aiutare il lettore, per portare il lettore per mano, facilitare la lettura. Questo sì. Talvolta scrivere, come dire, presentare due personaggi con voci simili può confondere il lettore. In questo caso, invece, ovviamente, c'è un approccio che rende molto chiaro chi è chi, fin dall'inizio, per l'appunto. E volevo che fossero, ovviamente, molto diverse. Perché, come giustamente facevi notare anche tu, sono due persone molto diverse. Senza fare, per carità, nessun tipo di spoiler, però si può dire sicuramente, fin dall'inizio, che Asana è quella che acquisisce un'istruzione, impara a leggere, quindi a sua volta impara anche a scrivere. Quindi, senza fare spoiler, ma si può dire che, ovviamente, ha senso che sia poi lei quella che, effettivamente, è in grado di scrivere, di raccontare qualcosa. Mentre Hussein, appunto, è la più introversa delle due e quindi, anche qui, ha senso che sia poi qualcuno che si affida ad altri per raccontare la sua storia, per parlare a nome suo. E poi, effettivamente, sì, come racconti anche tu, è vero, c'è una parabola che loro seguono, cambiano nell'arco del tempo. E la cosa interessante è che, effettivamente, Hassana, che è più estroversa, come giustamente dicevi tu, direi di nuovo, senza fare spoiler, però, che diventa più, come dire, comincia a guardare più verso se stessa, verso l'interno, e Hussein, al contrario, invece, viene spinta ad aprirsi un po' di più. È una sorta di fusione, una fusione tra le due, è una fusione che avviene nel tentativo di trovare se stessa, ovviamente, il tentativo di trovare se stessa che viene, in qualche modo, aiutato dagli incontri che loro faranno nell'arco della loro vita, e anche, ancora una volta, dal legame con l'acqua, un legame con l'acqua che serve a pulire anche la loro vita, la loro esistenza, a chiarire un po' la situazione, e poi, se ci pensiamo, alla fine ha anche assolutamente senso. Si comincia a nove anni, si arriva a diciannove, è un arco di età in cui si cambia tantissimo, si cresce tantissimo, succedono un sacco di cose, quindi ho pensato che fosse anche una storia credibile se proposta in questo senso, la loro crescita come persone. Prima, Ayesha ha parlato che, ha detto che nello spazio piccolo di questo libro si passi, trascorrono tantissimi anni, le persone cambiano, in realtà, in questo piccolo libro si spazia in quattro, diciamo, in quattro paesaggi, tra quattro paesaggi completamente diversi, tra di loro abbiamo la foresta interna algana, abbiamo Accra, abbiamo Lagos, e poi abbiamo Salvador di Bahia in Brasile. Se ci può dire brevemente qualcosa di queste quattro tappe, questo potrebbe essere un romanzo da leggere anche da un punto di vista spaziale. Ecco, se ci dice qualcosa, in particolare il Brasile, qual è il suo legame? In realtà, in quegli anni, ci furono tantissimi scambi tra la Costa d'Oro e il Brasile. Ovviamente, diciamo che è il corrispettivo dall'altra parte dell'oceano rispetto a quella parte d'Africa. dell'oceano. My father is from the north of Ghana, this place is the savannah, it's open spaces with spas, trees, my mother is from the forest, where everything is clumped together, so all three of these spaces feel very close to home for me. And Brazil, I lived in for two months when I was doing a residency, this was in 2015, and I felt like I was at home, it wasn't, as they say in French, des paysans, I didn't feel homesick, I didn't feel plucked out, I felt like this could really be home, and it makes sense when you, you know, fit the continents back together in that big landmass that it once was, because that, that would have been a continuation of where I come from. So these are all spaces that I know well, and I sort of wanted to pay tribute to, but then I also wanted to explore how place could influence personality and, and even action. So, Hassana, for instance, she's a child who is very much at home in the savannah, she needs open spaces, or she feels boxed in. And so when she ends up in the forest, she knows right away, she's not going to last that long over there. So I think that also inspires her journey to find her sister, because she's suffocating in the forest. Because Husayna is more of an internal person, she sort of is cocooned by the forest. And so Brazil feels almost like a forest, like where she is in Bahia, can feel like a place that cocoons her, so she's fine there. Yeah. And she's not so affected by her external, because she's more sensitive to what goes on inside her. So that's also another place on, another play on place, because the internal space is also another space that we, we encounter in this book. So I, yeah, I think as a, as a writer, I'm just more sensitive to surroundings and, and place, and I, I wanted to, 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 um, to explore that in this book, and, and I'm glad you asked that question, because I really, really wanted the characters to interact with their spaces as, as much as they can, positively and negatively. All right. Mi piace moltissimo l'idea di una, di un romanzo che abbia, che sia spaziale, che sia anche letto, che possa essere letto anche dal punto di vista dello spazio, effettivamente. Io ho dei rapporti personali, effettivamente, con tutti e quattro questi scenari di cui accennavi, perché io sono cresciuta ad Accra, appunto, sulla Costa d'Oro, e se chiudo gli occhi riesco ancora a orientarmi perfettamente, a dirti cosa c'è qui, cosa c'è lì, come si fa ad arrivare là, insomma, questo è il mondo in cui sono cresciuta io. Mio papà, ad esempio, arrivava dalla savana, quindi spazi aperti, grandissimi, un scenario completamente diverso, mentre mia mamma arrivava dalla foresta, quindi ancora un spazio completamente diverso. E poi il Brasile, il Brasile, io ho vissuto due mesi in Brasile nel 2015, quando ero lì per una residenza, e non mi sono mai sentita de peisane, come dicono in francese, ovvero esterna, come se fossi fuori luogo, come se non appartenessi a quel luogo, al contrario, mi sono sempre sentita assolutamente a mio agio, era una cosa incredibile, ed è quindi un luogo che a me è diventato molto familiare, quindi da un lato volevo, come dire, celebrare, dare rilievo appunto a questi luoghi, questi scenari, questi paesaggi per me così importanti, però volevo anche effettivamente esplorare un'altra dinamica, ovvero la dinamica tra un luogo e quella che è l'influenza di un luogo su una persona, e quindi sulle azioni che poi quella persona compie, perché effettivamente Hassan ad esempio nella foresta non riesce a viverci, lei ha bisogno di fare, ha bisogno di avere mille cose che bollono in pentola, la foresta la soffoca, si sente soffocare assolutamente in questo contesto, ed è per questo che poi decide appunto di cercare di trovare sua sorella in qualche modo, mentre Hussein che ad esempio è in Brasile, a Bahia per l'appunto, beh lei vive all'interno, una persona diversa, una persona introversa come abbiamo detto prima, e quindi è un po' come fosse un bozzolo, si crea un bozzolo in questo tipo di contesto, e non ha bisogno di questa, di esternare più di tanto, di proiettare all'esterno più di tanto quello che c'è dentro di lei, perché lei è abituata appunto a vivere nel suo di bozzolo, e quindi assolutamente c'è anche questa dinamica tra lo spazio interiore e lo spazio esteriore che si viene a creare. Io sicuramente come scrittrice sono sensibile a questa dimensione spaziale, diciamo così, all'influenza dello spazio, dei luoghi sulle persone, e devo dire mi è piaciuta moltissimo la tua domanda, Laura, perché mi piace molto appunto scavare e scoprire i legami tra le persone e gli spazi, sia in positivo che in negativo. Faccio un'ultima domanda, abbiamo ancora qualche minuto, poi ci salutiamo. L'ultima domanda è questa, se ci puoi dire qualcosa sulle tue influenze letterarie, e se ci puoi dire qualcos'altro su quello che è la scena letteraria della parte di Africa che tu conosci meglio. Tu adesso appunto vivi in Senegal, quindi immagino che comunque avrai più sott'occhio quello che sono le tendenze del tuo paese elgana, probabilmente Nigeria, Benin, ecco se ci racconti qualcosa. La letteratura africana in generale, so che non è bello generalizzare, però parlando in generale, negli ultimi anni sta ottenendo dei riflettori che in passato non ha avuto. Questo per me è una cosa solo che positiva. Ok, so I'll answer the second question first, and then come back to the first question about my literary influences. Yeah, I think the continent is just full of so many stories and there are just so many natural-born storytellers over here. So it's about time the world caught on because the stories are funny, they're sad, they're romantic, they're far out, they're historical. We have it all and it's about time the world realized this too. So I, in Senegal, I'm sort of a hermit, so I don't have my finger on the pulse here. I do have a little book club and so I try to get the young ones talking about what they're excited about. And what I'm finding here is a lot of older writers in Senegal. It's hard for me to pinpoint how many younger writers there are. I know a couple I can count, maybe two on my hand, which is rather sad. But there's an older generation like Mariama back and Bugo that a lot of young people still read, which is good. In Ghana, on the other hand, maybe it's just because of the language and I am more Anglophone than I am Francophone. So I have my eyes on Ghanaian literature. There's just so much exciting content coming out of there and there's speculative fiction. Young people are running, you know, magazines online. You go on Twitter and that in itself is a whole literary art form in itself. And there's a lot happening. Nigeria is producing so many writers. It's a big country, so it's normal that it will have the majority of writers in West Africa coming out of it. There are Liberian writers. South Africa has its giant share of writers as well. And there's a sort of Pan-African gathering of writers. For instance, there was the Afro-Lit Festival that took place last year because of the pandemic, which was really, really interesting. I was so glad I got to participate in it. And you had people coming from all over. And it was so well curated. One minute you had people talking about, you know, literature and translation. And then the next minute you actually had a local language panel, which was very innovative. So I think there's a lot coming out of the continent. And what I'd like to see is people getting paid for their work because it's fantastic work. So my literary influences, the biggest ones I'd say are Toni Morrison, Gabriel Garcia Marquez, Nagib Mfouz, let's see, Bessie Head. I love Russian literature. So Tolstoy, you know, Anna Karenina, the brothers, Karamazov, and then Gogol. Then I went through a phase where, because of school, I guess I was reading a lot of American literature. So like Faulkner, I liked a lot. And I just try and read as widely as I can. And Arundhati Roy, and, you know, classic literature. And I'm trying to read a lot of my book club. So we're revisiting classics. And the young people, they're so interesting because some things that you think they'll respond to, they're like, no, 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 did not enjoy this one bit. And then other things they love. So I'm reading, I read The Legend of Bluebeard with them. We've read Leila Stemani, mostly Francophone literature at this time because they read in French, which is good for me because I'm also expanding my literary, I guess, worldview. So, yeah, it's big and wide, my influences. And I'm trying to read as deeply as I can, as widely as I can, and just to take it all in. Sometimes I wish I had more time in the day to read even more, but it is what it is. So, yeah. Allora, che dire, comincio con la seconda domanda e poi ti parlo delle mie influenze. Devo dire che era ora finalmente che il mondo se ne accorgesse, che il mondo si accorgesse che ci sono tantissime storie, tantissimi narratori nati veramente in Africa. Ci sono tante storie da raccontare che sono allegre, che sono simpatiche, che sono tristi, che sono storiche magari. Insomma, era ora che finalmente ci fosse un po' di attenzione per queste storie, ci fosse un po' di spazio. Io devo dire che in Senegal, vivo in Senegal, ma sono un po' un'eremita, quindi non ho proprio bene il polso della situazione per quanto riguarda l'ambiente letterario e locale. Io gestisco un book club per i giovani e questo mi permette ovviamente di restare informata su ciò che accade, ma quello che è la mia sensazione, devo dire, ma ripeto, non ho un'esperienza diretta, è che in Senegal ci siano più che altro molti scrittori che ormai sono anziani, diciamo così. E i scrittori giovani, se ci penso, me ne vengono in mente due o tre, non di più assolutamente, se vogliamo questa situazione un po' triste, diversa e la situazione è completamente diversa. Ad esempio in Ghana, io sono anglofona, quindi forse anche questo aiuta, il fatto di essere anglofona, sono più, diciamo, sul pezzo per quanto riguarda appunto la letteratura anglofona, ma il contesto del Ghana, dal contesto letterario del Ghana, è assolutamente diverso, è molto più, c'è la fiction, speculative fiction, c'è tutta un'attività frenetica su Twitter, ad esempio, che potete seguire anche voi, ci sono delle riviste online, quindi c'è veramente un gran fermento. Stessa cosa per la Nigeria, che ovviamente è un paese enorme, ha anche senso che abbia il numero più elevato di scrittori del Nord Africa che arrivano da lì, c'è la Liberia, c'è il Sudafrica e poi secondo me la cosa più bella è che c'è proprio una spinta panafricana, direi. C'è stato ad esempio l'anno scorso con la pandemia l'Afro Lit Festival, a cui ho partecipato anch'io, ed è stato un evento splendido, hanno partecipato persone da tutto il continente, è stato curato benissimo e la cosa più interessante secondo me è che c'era una sessione sulla letteratura in traduzione e poi subito dopo magari un panel in cui si parlava una lingua locale. Quindi, insomma, veramente un approccio innovativo ed è bellissimo, c'è tantissimo fermento, appunto, tante cose che stanno prendendo il lancio. Per l'appunto, la cosa che auspico è che ovviamente tutto questo, questa bravura, anche venga poi ricompensata anche dal punto di vista economico, perché è giusto che sia anche così, ovviamente. Per quanto riguarda invece le mie influenze, sono assolutamente vastissime e vanno da Tony Morrison a Gabriel Garcia Marquez, Bessie Head, poi i russi, quindi i grandi russi, non so, Tolstoy con i fratelli Karamazov, Anna Karenina, Gogol. Io poi a scuola, appunto, ho frequentato questi corsi negli Stati Uniti, quindi, come dire, sono stata sensibilizzata alla letteratura americana, quindi Faulkner sicuramente, ma devo dire che in realtà le influenze per me arrivano un po' da ogni dove, ad esempio anche Arunda Tiroi, piuttosto che i classici. La cosa più interessante, devo dire, che però, appunto, come vi dicevo, ho questo book club con dei giovani e tu ti aspetteresti che magari piaccia tantissimo una cosa e loro ti dicono, no, non mi è piaciuto per niente. E quindi è molto interessante invece vedere che cosa piace, che cosa no ai giovani, magari soprattutto tra i classici. Però, ad esempio, come dicevamo prima, Senegal è francofono, quindi io mi sono, come dire, questo mi permette anche di scoprire, di ampliare, come dire, il mio orizzonte e le mie conoscenze. Ad esempio, di recente ci siamo soffermati su Leila Sleimani, che appunto è una scrittrice francese, ma è bene per me perché mi si allargano appunto gli orizzonti. Quindi, devo dire, le mie influenze arrivano un po' da ogni dove e cerco sicuramente di, io stessa, di ampliare, ma ce la posso fare, scusate, di ampliare i miei orizzonti. Soprattutto, quello che devo dire è che forse, come tanti altri, avrei bisogno di più tempo, avrei bisogno di avere più ore durante il giorno in cui dedicarmi esclusivamente alla lettura, così non è, si fa quel che si può. Grazie, come non darti ragione, tutti lo vorremmo, sarebbe bellissimo. Abbiamo un po' sforato gli orari, volevo ringraziare la nostra autrice, Ayesha Arunata, l'autrice di Il Grande Azzurro, pubblicato da Marcos Imarcos. Ringrazio il Circo dei Lettori che ci ha ospitate e ringrazio Sara Cominetti per la sua traduzione. Grazie mille e buona serata. Thank you so much Laura, thank you Sarah, this was really, really wonderful. Grazie Laura e grazie Sara, è stata veramente una bellissima occasione. Grazie a tutti.